buongiorno ragazzi oggi 31 dicembre capodanno chiusura di caccia al faggiano sono ospite con degli amici in una nuova zona e non so se sono faggiani che hanno messo però penso così perché spesso qui fanno le caccia del fine anno e niente ecco affronteremo questa giornata insieme con mirta galliope e il giovane faccio l'anzio insieme con il giovane faccio l'anzio firma 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 Qua, 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 qua Vieni qua, qua Bravissimo sta ferma guardate l'occhio no la calli sta ferma ce la calli davanti al naso brava dai calli eccolo eh apri attenta va eccolo va eccolo porta 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 brava te, brava Cicciottella, bravissima